Tuttavia l'instabilità politica continuò e il primo ottobre del 1949 il partito comunista cinese guidato da Mao Zedong vinse la guerra civile contro il Kuomintang e prese il potere fondando la Repubblica Popolare Cinese. Mao si pone davanti un obiettivo ben preciso dare un governo democratico e unitario alla Cina e avviare una fase di transizione verso il socialismo così da realizzare assieme all'allora URSS una rete comunista internazionale. La prima fase della Repubblica Popolare Cinese che va dal 1952 al 1957 è quindi connotata da una serie di decisioni che si rifanno al modello di socialismo russo. Il fatto che il popolo cinese non fatichi ad accettare questo cambio di pensiero basato su una visione della società come un unico corpo dimostra ancora una volta la chiara influenza di Confucio e dei suoi insegnamenti tra cui l'importanza dell'armonia sociale, del rispetto per chi detiene il potere e dell'atteggiamento tendente al compromesso. La presa del potere del partito comunista significò una vera e propria rottura. Sono aboliti i sei codici repubblicani, viene disgregato il sistema giuridico nazionalista, vengono avviate campagne politiche per la soppressione anche fisica dei rivoluzionari e per il controllo politico da parte di un partito unico di ispirazione comunista, oltre alle introduzioni di un sistema di pianificazione dell'economia da parte del partito unico per assicurarsi il controllo di ogni attività produttiva del paese. Nel 1954 viene inoltre redatta la prima Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, ispirata al modello costituzionale sovietico del 1936, che coincide anche con la creazione del primo Parlamento Cinese eletto a suffragio universale, anche se comunque sempre sotto la guida e controllo del partito comunista. Qualche anno dopo ha inizio anche un primo tentativo di compilare un codice civile onnicomprensivo, che però fu drasticamente interrotto dal movimento antidestra del 1957, a cui fece seguito, l'anno successivo, l'esperimento di Mao Zedong del grande balzo in avanti. Con questa espressione si identifica quel periodo tra il 1957 e il 1960 in cui, attraverso la sperimentazione economica e la mobilitazione politica, il partito comunista cinese si pone l'obiettivo non solo di sorpassare a livello industriale le potenze occidentali, ma appunto, attraverso un balzo, di completare il passaggio da socialismo a comunismo. Il programma includeva una serie di cambiamenti sociali non indifferenti, che si ispiravano al programma socialista russo, ma che evidentemente non erano ancora adattati ad un paese come la Cina. Il modello pianificato si rivelò infatti fallimentare e porta alla morte di circa 20 milioni di persone, soprattutto a causa della denutrizione. Il fallimento del grande balzo genera un terremoto interno al partito, dando spazio alle componenti più moderate che facevano capo a Liu Shaoqi, uno dei rivali di Mao Zedong. Quest'ultimo, consapevole di non avere il controllo assoluto del partito, predispose una forma di lotta politica inedita nella storia cinese. Spinse le generazioni più giovani ad una ribellione contro i vecchi del partito, che furono accusati di aver intrapreso la via capitalistica. Quella mobilitazione è ricordata come la rivoluzione culturale, una rivolta dai caratteri apparentemente spontanei, ma in realtà guidata dalle alte sfere del partito comunista. Nei luoghi di lavoro o istituzionali, come ad esempio le scuole, professionisti e professori vennero posti sotto accusa dalle guardie rosse, in maggioranza studenti che impugnando il libretto rosso denunciavano le attività di migliaia di individui che furono, non di rado, internati nei campi di rieducazione. L'obiettivo dei Maoisti era di innescare un cambio della mentalità collettiva come primo passo di un'autentica rivoluzione comunista. Per raggiungere questo obiettivo, ovviamente la rivoluzione inglobò non solo l'istruzione, ma anche la filosofia e la tradizione della Cina oltre alla sfera del diritto. Per quanto riguarda la prima, durante tutto quel periodo vennero distrutti templi confuciani e vandalizzate statue di Confucio. Per quanto riguarda il diritto, invece, tribunali, procure popolari e uffici notarili furono occupati dalle guardie rosse. Facoltà di giurisprudenza furono chiuse e i giuristi processati o sottoposti a rieducazione ideologica. Si può dire che fu un vero attacco sistematico. Dal 1968 la situazione iniziò a stabilizzarsi, con una successiva graduale apertura verso l'esterno, fino al 1978, considerato l'anno di svolta, che coincide con la morta di Mao. Venne dichiarata la necessità di una modernizzazione socialista, a partire dalla creazione di un sistema giuridico stabile. Negli anni successivi si vedono quindi una serie di riforme, tra cui il programma delle quattro modernizzazioni, che prevede un profondo rinnovamento in vari campi, agricoltura, industria, esercito, scienza e tecnologia. Nel 1982 viene redatta la nuova Costituzione della Repubblica Popolare Cinese, in vigore ancora oggi, seppure emendata più volte, e nel 1987 il nuovo Codice Civile, che sarà sostituito dal più recente Codice Civile Cinese del 2020.